Amici di Maria De Filippi, noto semplicemente come amici e conosciuto fino al 2003 come saranno famosi, è un programma televisivo italiano di genere talent show, condotto da Maria De Filippi, da Daniele Bossari per i primi tre mesi circa, e in onda dal 17 settembre 2001, inizialmente su Italia 1 e successivamente su Canale 5. Il programma va in onda nella fascia dei time, durante la fase iniziale, e in prima serata durante la fase serale. Sia l'intera prima edizione che la fase serale della successiva, conclusasi il 27 maggio 2003, sono state trasmesse su Italia 1. Mentre la fase iniziale della seconda stagione, è andata in onda dal 14 settembre 2002 su Canale 5, emittente che avrebbe trasmesso le edizioni seguenti. Nel periodo dal 16 novembre 2020 al 14 maggio 2021 la sola striscia del day time, è andata in onda su Italia 1. Con 23 edizioni all'attivo, è il talent show più longevo della televisione italiana e in questi anni Giulia è migliorata tantissimo, non solo professionalmente ma anche da un punto di vista personale. Durante quest'edizione si è spesso interfacciata con gli allievi protagonisti, instaurando con tutti loro un grande rapporto d'amicizia. Chi più di Giulia avrebbe potuto capirli? La ballerina, prima di essere una professionista, si trovava dall'altra parte. Uno dei cantanti di quest'anno le ha scritto una dedica dolcissima, parole che di sicuro hanno colpito la ballerina. Giulia ha da sempre mostrato una forte sensibilità, una delle sue qualità più belle. Il cantante che le ha scritto queste parole bellissime è Petit, a te che mi hai conosciuto Saso prima di conoscere Petit. La ballerina ha condiviso sui social il CD del ragazzo, ringraziandolo per le esternazioni fatte. Quest'anno a trionfare è stata Sara Toscano, ma tutti i ragazzi che hanno partecipato al serale sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico e di tutti i professionisti. Petit è stato da subito amatissimo. La stessa Maria De Filippi ha in più occasioni palesato la sua simpatia nei confronti del giovane cantante. Durante il percorso nella scuola ha stretto un'amicizia speciale con la ballerina Marisal. I due si sono innamorati e ancora oggi, seppur giovanissimi, vivono felici la loro storia d'amore. Riusciranno questi talenti ad ottenere il successo di Giulia? Quest'ultima è nuovamente tra le protagoniste di Tussi, che vales, e con grande probabilità il prossimo anno sarà ancora tra le professioniste ad amici. Il programma le ha regalato un'enorme opportunità. Giulia sarà per sempre grata alla produzione e alla De Filippi. La conduttrice instaura con i ragazzi un rapporto unico e questo rappresenta una spalla fondamentale per tutti loro durante i mesi. Un aiuto professionale e soprattutto personale, necessario in tutti i momenti di sconforto e grandi difficoltà.